Abbiamo una mezz'oretta di tempo per fare una chiacchierata, abbiamo deciso di impostarla un po' come una chiacchierata, questa è la ragione per cui siamo tutti quanti seduti e cerchiamo di discutere su un argomento. Il titolo è intermediazione occulta, dalla prima slide che vedremo vi cercheremo di spiegare come mai abbiamo scelto questo termine ovvero occulta. L'argomento da stamattina in BTO è stato già un po' affrontato da altre persone molto molto bene per cui abbiamo discusso prima di questo panel un'oretta fa insieme abbiamo deciso di dare un'impronta particolare per cui ci siano alcuni spunti per l'albergatore, un po' perché io sono direttore dell'albergo e quindi questo riesco a fare e non molto di più. E poi perché con noi c'è Edoardo Caldari che è CEO founder di Hotel Pro 36 ed è anche albergatore, tutti quanti lo conosciamo e sappiamo quanto sia esperto di revenue e quindi ci parlerà anche della parte che riguarda il revenue per questa problematica. E ne discutiamo con la dottoressa Casillo, direttore generale di Confindustria e alberghi per cercare di capire anche un po' la loro visione e che cosa possa eventualmente, come possa aiutarci in questa particolare situazione anche l'associazione. Noi siamo partiti da qua sostanzialmente provando a fare una prenotazione e simulare una prenotazione per venire a Firenze per BTO e abbiamo trovato prezzi completamente diversi per un albergo nella fattispecie andando su Google abbiamo trovato per l'NH di Firenze prezzi che oscillavano da 179 fino a 107 che venivano venduti da hotel.com. Partendo da questo punto Edoardo ha fatto un'altra prova e l'ha fatta proprio sul suo albergo, il Relay Empire di Verona e Edoardo per questa camera, la camera del suo albergo veniva venduta su hotel.com a 169 e poi arrivavamo fino a 138 per Nustei, giusto Edoardo? Ok. Vista questa particolare situazione ci siamo chiesti chi fosse Nustei, Edoardo ha fatto una bella ricerca, mi ha chiamato e mi ha detto ma sai che cosa ho scoperto? Ho scoperto che di occulto forse sarebbe anche sbagliato il titolo che abbiamo pensato, perché in realtà di occulto c'è veramente molto poco. Perché c'è molto poco di occulto? Perché è tutto molto ma molto palese. Probabilmente Nustei non è poi quella ota fantasma a cui abbiamo pensato quando abbiamo pensato di organizzare questo panel. Pensa, mi diceva Edoardo, che si sta quotando in borsa, giusto? Assolutamente sì. E mi dice e pensa che, spiega chiaramente in modo palese, qual è il suo operato e come lavora. Come lavora Nustei? Una differenza importante tra Nustei e gli attuali attori del mercato ota è la capacità di Nustei di combinare prezzi bassi dal modello business to business. Ad esempio grandi tour operator che raggruppano insieme le stante biglietti aerei. Sto leggendo perché è quello che Nustei dichiara palesemente in fase di quotazione in borsa. Con il modello business to consumer che offre una vasta gamma di scelte alberghiere e di prenotazione on demand direttamente ai consumatori. La società si riferisce a questo come suo modello di business ibrido. Questo modello di business è possibile grazie alla piattaforma di Nustei, i suoi accordi riguardanti partnership uniche con i principali fornitori di hotel B2B e i suoi accordi di partnership con gli attuali leader del mercato, fornitori di hotel B2C come Expedia, Pressline e Agoda. Il risultato di questo è che nella maggior parte dei casi prenotare una camera di alberghi Nustei è più economico rispetto alle ota in competizione. La prima domanda per Edoardo è davvero così conveniente? Tu hai provato, Fabio? Allora, sì, in effetti abbiamo fatto un po' di ricerche e Nustei sembra essere un po' l'esordiente che è il cavallo di battaglia di questo mercato dei metasurse. Effettivamente sono bravi, poi vediamo che ci sono luci ma ci sono anche ombre. Sono bravi poiché quasi sempre riescono a uscire sul risultato del metamotore, che può essere Google, può essere TripAdvisor, può essere Trivago per citare i principali, in media con un prezzo del 30% più basso. Quindi questo è i fatti. Tutto il discorso sull'affezione al brand, col 30% magari, non ci pensa un pochettino. E guarda caso ho provato anche su una delle mie strutture. Ho detto, vediamo come fanno ad essere così bravi che riescono addirittura a fregarmi. Dicevano degli amici che mi prendevano in giro, ma guarda che sul tuo sito sei più alto. E abbiamo fatto un video, ho fatto un video che mostra il processo d'acquisto di un cliente qualsiasi che avrebbe trovato sul newstay.it. Se possiamo lanciarlo... Questo è Edoardo che si prenota alla stanza del suo albergo. Ho trovato il prezzo più basso, ho cliccato, c'è una piccola pagina con delle foto riassuntive, mostrano il prezzo 77 euro e allora vado a prendere il prezzo 77 euro, aspetto che carichi, schiaccio, prenota la stanza, il prezzo più basso, si apre la pagina dove devi inserire i dati per completare la prenotazione. Tra l'altro il processo di prenotazione è molto allineare, veloce e snello. Funziona bene. Funziona benissimo, tranne che per un... Barbara che c'è la foto. L'avevo detto. Qua sto mettendo i miei dati. Mette la carta, questo poi è un passaggio su cui facciamo un ragionamento. Nelle notte scrivo test newstay. Test newstay, l'hai proprio scritto praticamente. La carta di credito l'ho oscurata. La carta penso sia oscurata, spero. Metti la carta. Bene. E poi dopo il pulsante conferma e prenota, prenota e paga, cos'è che c'è scritto? Prenota e paga. Prenota e paga. Sì. Cosa succede? Ecco qua. Qua. Ops. Mi sono sbagliato. Il prezzo è leggermente cambiato. E poi in piccolo, ma sai, i prezzi sono dinamici. Però se vuoi puoi continuare la prenotazione. Non costa più 77, costa 40 euro in più, 117. Però clicca. Quindi diciamo che questo qui è uno degli aspetti bui di questo fenomeno, dei metamotori e delle varie comparazioni di tariffe su questi metamotori. Se posso, come dicevamo prima, è mutuata una logica che purtroppo è già attiva da parecchio tempo sulle tariffe aeree. Quindi la capacità del nostro settore di acquisire per osmosi, nel bene e nel male, quelle che sono le soluzioni già adottate nel mondo aereo, è un dato di fatto. Questo potrebbe essere interessante per uno dei temi su cui noi ci arrovelliamo di più, cioè cercare di capire quale sarà la prossima mossa. Quindi guardare sempre, monitorare come funziona la vendita nel mondo dei voli aerei potrebbe aiutarci a capire quale potrebbe essere il prossimo step che ci astende. Nel bene e nel male. Non perché ci piaccia chiaramente questo, ma è un dato di fatto che c'è. Sì, ci è capitato spesso, a me è successo più di una volta con gli aerei, una situazione simile effettivamente. Qual discorso che avevamo fatto con Edoardo era anche un po' il fatto che ci siamo fatti una domanda, visto che si è parlato molto di meta search anche in video fino adesso, delle problematiche che ci possono essere legati al prezzo che viene pubblicato sul meta search e quello che poi in realtà viene trovato all'interno della OTA, che alcune volte non corrisponde ma per una questione tecnica. Allora adesso io sfido anche il miglior revenue manager ad avere il pieno controllo delle tariffe che vengono distribuite su questi metamotori. Non so se voi avete fatto delle prove, come vi sembra la cosa, però effettivamente anche io stesso faccio fatica ad avere il controllo. Poi ragioniamo se dobbiamo avere il controllo ma lo facciamo alla fine. Però diciamo che i motivi sono tanti, tantissimi e si incrociano tra di loro. Sicuramente il principale motivo sono le tariffe dei grossisti, quindi noi abbiamo un accordo con il grossista, negoziamo una tariffa che sia statica o che sia anche quelle dinamiche e questo grossista la rivende un altro operatore che la rivende un altro operatore che guarda caso al sito che viene fuori al consumatore finale su TripAdvisor o Trivago. Quindi questo è il principale problema, ma non è l'unico perché abbiamo anche le OTA stesse che ormai hanno sdoganato un po' questa cosa della tariffa dinamica. Abbiamo Booking.com che da poco ha introdotto l'early payment benefit, quindi si toglie una piccola percentuale di commissione per chi ha accettato la virtual card tra i metodi di pagamento. Abbiamo la Booking.com, quindi anche Booking.com diventa anche lui una sorta di metamotore piccolino, diciamo che è un marketplace più alla Amazon e segnala che c'è anche una tariffa più bassa, però viene venduta e commercializzata da altri canali, non dal suo ufficiale. Abbiamo Expedia con le stesse cose, quindi diciamo che ci sono tantissimi motivi, tra cui aggiungiamo anche alcuni tecnici. Infatti, quello che stavamo... Perché pur essendo Google con il suo comparatore, TripAdvisor con il suo, Trivago, diciamo lo stato dell'arte, della tecnologia per andare a pescare i prezzi, effettivamente non riescono ad avere esattamente il prezzo che c'è online sul sito poi di atterraggio. Cioè, cosa voglio dire? Quando voi cliccate ogni tanto, vedete 100, poi atterrate sulla pagina, invece è 90 la tariffa. Noi abbiamo stamattina fatto una simulazione ed c'era una differenza di 10 euro e in realtà il Metasearch dava una tariffa più alta. Poi abbiamo fatto anche dei ragionamenti perché abbiamo notato, per esempio, che su Expedia questo può succedere quando Expedia mette, per esempio, una percentuale più bassa, chiede all'albergatore se è d'accordo a dare un 10%, per esempio, di sconto sulla tariffa mobile. Per cui il Metasearch restituisce la tariffa desktop, non mobile, però poi io sto navigando da mobile, entro dentro e trovo una tariffa ancora più bassa. Quindi questo può effettivamente accadere. Quindi è una questione tecnica in questo caso. In altri casi, però, il dubbio è che possano essere anche dei prezzi civetta. Questo ce lo siamo anche chiesti. Abbiamo visto il prezzo civetta di Mustay. Loro dicono, ok, intanto entrano nel mio sito, mi lasciano i dati, io comincio ad collezionare questi dati e poi chissà cosa potrà farsene, non so. Quindi diciamo che il fenomeno esiste, c'è, consolidato. Ed è un fenomeno che abbiamo cercato di analizzare su due punti di vista. In sostanza, è un fenomeno che crea confusione. Confusione nell'albergatore e un sacco di confusione nel cliente. Quali sono gli elementi di confusione per gli albergatori? Beh, allora, questa slide è abbastanza emblematica. Ci si trova in delle situazioni un po' imbarazzanti. Nel senso, il cliente ti chiama al telefono, gli dici la tariffa, magari sei anche smart, e quindi proponi anche, guarda, questa è la miglior tariffa disponibile per il mio hotel. E invece l'interlocutore davanti al tablet, al cellulare, vede una tariffa, magari vede proprio quella di Mustay, a 77 euro. Sì, qua sono io che mi faccio una figura incredibile, perché dal messenger del mio hotel rispondo, sta tranquillo, il mio è il prezzo più competitivo. E lui mi risponde, no, guarda, non è vero che il prezzo non è più competitivo, perché il mio prezzo mi è effettivamente scappato di mano. Eh sì, quindi dobbiamo capire se vogliamo convivere con questa cosa, quanto siamo integralisti nelle nostre decisioni commerciali, se vogliamo noi avere sempre e comunque il miglior prezzo, oppure no, oppure possiamo anche incassare un po' ogni tanto qualche figuraccia, tra virgolette, e andare avanti. Anche se forse è la più costosa di tutte come scelta, perché la trasparenza rispetto al cliente è il valore più grosso, perché diventa la precondizione per una fidelizzazione, e questo è un altro elemento fortemente critico. Anche saperle gestire queste cose implica un'enorme fatica, un'enorme lavoro, praticamente il mestiere di chi, è in albergo e sta cambiando con grandissima rapidità, e chiede competenze nuove, un grosso impegno di tempo, e attenzione su queste modalità, perché per gestire come minimo ci vuole la consapevolezza, e già questo è un elemento di difficoltà, vista la velocità con cui il cambiamento si ripropone di mese in mese. Io mi sembra di ricordare l'anno scorso il tema dei temi era la policy di cancellazione, l'anno prima parlavamo forse delle commissioni, o di altre cose, la pariti, poi le commissioni. Il cambiamento del problema è talmente continuo e veloce che ha stravolto l'attività che si prevede di fare in un albergo. Ora, forse le grandi strutture hanno dentro un personale specializzato che segue e monitora continuamente questi fenomeni, sia nel loro svilupparsi, sia proprio nella gestione pratica, perché è la prima cosa che tu devi avere è un controllo continuo di quello che sta sulla rete delle tue tariffe. Però il tessuto imprenditoriale di questo paese, che è fatto di operatori che sono per lo più aziende medio-piccole, che non hanno la possibilità di avere figure professionalizzate stabilmente presenti in azienda, effettivamente soffre particolarmente questo tipo di realtà. Sì, quando parliamo con i colleghi molto spesso ci sentiamo dire ma io sono albergatore, non è che posso sapere queste cose, ma perché devo sapere tutte queste cose, ma perché devo fare queste cose. Una volta non era possibile, questo non è un discorso, secondo me non è assolutamente un discorso, però ci sono opinioni. L'altro punto è grossisti, ma a quali condizioni? Se continuare a tenerli, ed è difficile dare una risposta, con Edoardo ne abbiamo parlato a lungo, perché dipende da mille varianti, le condizioni poi ci ritorniamo un attimo quando parliamo della parte contrattuale. La risposta è vero Edoardo che ci dobbiamo dare e che comunque loro stanno vendendo la tariffa netta che noi gli abbiamo dato, quindi quello stanno facendo. La tariffa gliel'abbiamo data noi, gliel'abbiamo data netta e poi c'è un gioco di markup diverso, c'è un gioco di passaggi diversi, ma la tariffa è quella. L'altro giorno Edoardo continuava a ripetermi questo, ma che cosa vogliamo? Stanno vendendo quello che gli abbiamo dato. Allora, cosa facciamo? Esatto, alla fine chi è causa del suo mal pianga a se stesso. È proprio così, se vogliamo parlare anche un po' di alcuni suggerimenti pratici, per entrare un po' nel pratico. Quindi, quanto vi dà fastidio questa situazione innanzitutto? Perché dovete partire anche da questo concetto. Quanto non vi piace? Perché se pensate che si possa eliminare, la risposta è no, non si può. Se non togliete tutto, vendete solo direttamente al telefono o via email o sul sito vostro. Però non credo che sia una scelta lungimirante. Io ho di soluzioni che funzionano bene sempre, con tutti ne ho solo due, purtroppo. E poi ne ho alcune che sono un po' così così. Quindi la prima, l'ha già accennata Barbara, è la consapevolezza di come funzionino le dinamiche del mercato. È quella che manca tantissimo. Esatto, immaginate questo marasma in cui siamo catapultati dentro di distribuzione, è una cosa tipo finanza, scambio repentino di camere, letti, non so, di room night, come definirli, come un campo di battaglia. Quindi ci sono diversi attori. Noi per riuscire a entrare in questa battaglia e competere dobbiamo quantomeno conoscere come funzionano questi attori. Dobbiamo sapere che io ho fatto il contratto con il grossista, però il grossista ha un contratto con un altro, che ha un altro ancora, che magari un altro che ha l'agenzia di viaggio, piuttosto che il sito internet che si pubblicizza sui metamotori. Ok, quindi innanzitutto conoscenza. E le associazioni probabilmente potrebbero anche aiutarci. Questo è il nostro compito, cercare di capire cosa ci succede intorno, cosa sta per succedere e cercare di lavorare insieme per analizzare i problemi e trovare soluzioni che probabilmente non saranno miracolistiche perché appunto non si può sovvertire l'ordine di certe cose. È molto difficile quantomeno. Però sicuramente supportare le aziende per gestire meglio questa situazione. Sì, perché non è semplice da capire, non è facile, non è una cosa che capisci subito. Prima di trovarci qui ho fatto un po' di telefonate, mi sono confrontata con i miei per sentire, non in tutti c'era la stessa percezione del fenomeno. Anche perché la velocità è tale che non c'è stato neanche il tempo di metabolizzare ancora che cosa sta succedendo intorno. E questo è il primo step fondamentale per cominciare a contenere il rischio perché un rischio almeno conoscerlo ci aiuta a... Assolutamente. È chiaro, si diceva come Edoardo, che in un mondo utopico ci sarebbe l'elemento di dire ok, allora lavoriamo sulla tariffa lorda, non lavoriamo più sulla netta, ma come fai a lavorare con una tariffa lorda in un sistema dove la distribuzione presuppone tutti questi passaggi e quindi diventa un prezzo imposto e assolutamente improponibile. L'altro elemento... No, no, dicevo che c'è anche un problema di chi ha il manico del coltello, nel senso che sono tutte negoziazioni che si fanno partendo dal punto proprio, cioè la propria forza negoziale con questi soggetti e abbiamo di fronte spesso e volentieri delle situazioni in cui la loro forza è tale da renderci molto difficile a far passare le nostre logiche, cioè dobbiamo anche essere realisti, c'è una difficoltà oggettiva. Eh sì, assolutamente, è proprio una caratteristica peculiare del nostro settore. Ma c'è anche l'elemento, scusami, c'è anche l'elemento che non tutti abbiamo le stesse necessità, io parlo con albergatori che mi dicono zero grossisti, stop, fine, io dico io senza, nella mia situazione di numero di stanze, location o altro, non ci sto, devo trovare una quadra e è una delle ragioni per cui abbiamo d'accordo e accettato la discussione di questo panel. Infatti questa è una delle soluzioni che funzionano così, così. La seconda che funziona, giusto per tenere, è quella di una migliore programmazione delle tariffe all'inizio dell'anno. Quindi fate attenzione, quando stipulate il contratto, lo statico soprattutto, bene, valutate attentamente le tariffe da proporre, perché quelle tariffe poi potranno essere distribuite anche online in qualche modo. Poi ci sono tutti gli aspetti normativi e contrattuali. Su questo aspetto noi abbiamo pensato a discutere eventualmente per impostare se lavoriamo con delle fit, delle release diverse che possano essere delle release più alte rispetto alla classica finestra tariffaria che abbiamo, scusami, finestra di prenotazione che abbiamo noi o altro. Esatto. E poi sono i vincoli che possiamo mettere a questi contratti. È in voga mettere, non mi puoi rivendere a rivenditori che hanno il sito internet al consumatore, oppure devi vendere con un markup minimo garantito, oppure se ti scopro che l'hai venduto online c'è una penalità. Ecco, attenzione, attenzione, che più vincoli e più paletti mettiamo a questi nostri partner, più gli tagliamo un po' le gambe. Ecco, quindi attenzione che alla fine della fiera se vogliamo eliminare i grossisti perché ci dà tanto fastidio questo problema, rimaniamo solo con Booking forse e con Expedia, però che anche loro lo sono, quindi in realtà non si risolverà mai lo stesso. Non credo quindi alla fine che possa essere la soluzione. L'ottimizzazione sicuramente dovrebbe essere la soluzione. Anche perché poi tutto sommato ci troviamo queste tariffe anche su Booking, no? Booking per rispondere a questo problema ha detto, ok, non c'è problema, me la prendo io la tariffa, la metto dentro il mio portale così garantisco sempre la tariffa più bassa veramente. Perché Booking fa la Booking Basic? È proprio per questo. Lui deve essere il miglior collaboratore di viaggio dei nostri consumatori e quindi vuole avere sempre la tariffa più bassa. Anche a posto di... Perché è suo malgrado che fa questa operazione. Booking Basic per Booking è una grande fregatura. Se voi vedete, scusami, se vedete questa simulazione, questa prenotazione, in realtà il prezzo dato da Booking Basic è semplicemente lo stesso prezzo senza le tasse di soggiorno che su Booking in realtà sono comprese. Quindi siamo alla follia che siamo in parity come prezzo. Questa è una delle poche visioni che secondo me potrebbero trovare uno spazio d'attenzione. Perché ci sono degli aspetti che configurano almeno sulla carta una pratica commerciale scorretta. È vero che fino ad oggi noi siamo stati in grandissima difficoltà perché le nostre authority preposte a controllare l'antitrust o l'autorità per il mercato evidentemente avevano strumenti un pochino spuntati per leggere le dinamiche di questa realtà. Però vi sottolineo perché mi ha molto colpito positivamente la sentenza recente che è stata fatta nei confronti di Ryanair rispetto alla tariffa senza bagaglio minimo. E questo è un elemento secondo me molto interessante non perché riguardi l'albergo perché difficilmente potremmo vendere fare una tariffa con il comodino scorporato dal resto della camera per capirsi. Però effettivamente riconosce per la prima volta l'autorità il meccanismo che queste aziende hanno adottato. Cioè siccome si sa che si passa attraverso questi modelli di comparazione si crea una tariffa artatamente più bassa in modo da catturare l'attenzione del consumatore mantenerlo legato e fidelizzato al proprio sito e con questo si altera la dinamica del mercato. Andare a scomporre un elemento che è implicito e necessariamente connaturato a quello che è l'oggetto del contratto è una forma una pratica commerciale sicuramente diciamo scorretta o quantomeno su un crinale molto delicato. Per cui in questo quadro secondo me dei punti di riflessione per aggiustare il tiro potrebbero anche esserci. fermo restando che non potranno scalfire nel suo complesso un andamento che il mercato in questo momento ha visto come un'evoluzione. Io mi sono chiesto perché Booking Basic anche perché ho notato prenotando delle Booking Basic quanti paletti ci siano all'interno per cui ma davvero sono disponibili a prenotare gli utenti abituati a Booking prenotare a queste situazioni cioè senza avere la possibilità di avere una fattura dovendo prepagare e avendo 24 ore di tempo per sapere se in realtà la stanza è disponibile o meno per cui la domanda me la sono fatta per questa ragione ed è un altro degli elementi per cui mi ha fatto pensare alla confusione del cliente. Queste sono delle recensioni lasciate su TripAdvisor delle osservazioni lasciate su TripAdvisor sulla Booking Basic dove c'è gente che dice ma davvero ti fidi ma la prenoti ma io ho prenotato ma non mi hanno detto ancora a distanza di tempo se la stanza è disponibile o non è disponibile e quindi qui entriamo nel campo della confusione del cliente che potrebbe essere un'arma su cui possiamo magari andare a lavorare in qualche modo non so come però sicuramente è un elemento importante però la cosa che più visto che parlavi Barbara di danno nei confronti dell'albergo eccetera io e Edoardo continuiamo a insistere che probabilmente in questo mondo di confusione il danno più grosso lo sta facendo questa situazione qua. Sì questo qui è proprio è il limite dello scorretto proprio quasi truffa no? Ci sono alcuni attori che cosa fanno? Comprano un dominio che è molto simile a nome hotel più città creano una pagina una pagina di atterraggio è un mini sito vero e proprio e poi distribuiscono quelle tariffe nel senso qui si vuole far credere di essere atterrati sul sito dell'hotel qui stiamo utilizzando proprio il brand stiamo facendo brand jacking cioè la situazione è questa e questo è gravissimo questo è un aspetto negativo perché viene utilizzato il brand perché vengono utilizzate foto vecchie dell'albergo perché è una pratica scorretta è scorretto però in una situazione di confusione totale che è quella che abbiamo illustrato adesso c'è anche questa e questa a parer nostro almeno quello che ci siamo confrontati questa è veramente incredibile su questo davvero secondo me ci sono elementi oggettivi bisogna intervenire a livello di associazione o altro perché questa è una problematica forte che noi avvergatori sentiamo veramente tanto non credo che il discorso del dominio della tariffa di non avere più il controllo della tariffa è un discorso ma non avere più il controllo della propria immagine totale perché qui e non avere più il controllo della propria immagine in totale è veramente tremendo l'ingannevolezza di essere simili perché poi ovviamente in un mondo in cui viviamo di recensioni la propria immagine effettivamente è gestita ormai da altri però in modo chiaro quindi anche chi poi legge ormai le recensioni le valuta sapendo che sono filtrate da qualcuno ma qui c'è l'ingannevolezza di cercare di presentarsi come si fosse il titolare reale del brand quindi ci sono una serie di fatti specie che sono oggettivamente critiche questo è un elemento ulteriore ma secondo me molto più risolvibile della complessità invece che abbiamo visto fino adesso che nasce in un contesto dove abbiamo degli attori di mercato talmente forti da condizionare l'attività delle imprese abbiamo un minuto e quarantasette in questo minuto e quarantasette semplicemente ci rimane per secondo me per dire che l'argomento era chiaramente vastissimo non si poteva abbiamo cercato di tirare le somme su quelli due tre punti che ci potevano sembrare i più importanti e sono soltanto ed esclusivamente spunti di riflessione tra colleghi proveremo ad affrontarlo magari anche in seguito in altre situazioni io sono sicuro che ne verrà fuori qualcosa di buono Edoardo sappiamo tutti che ha questo gruppo su Facebook che è molto ben frequentato che vi invito a frequentare Revenue Management e abbiamo già stabilito che magari faremo qualche cosa di nuovo su questo argomento faremo una diretta faremo qualcosa e cercheremo di affrontare di nuovo questo tipo di argomento e da parte dell'associazione un invito all'attenzione da parte mia per lo meno dagli albergatori ma te lo chiederanno continuamente immagino i tuoi associati assolutamente non solo lavoriamo su questo ma lavoriamo anche su quello che poi sarà lo sviluppo futuro perché questo è il tema centrale quando ne parlavamo mi avevi sottolineato le informazioni di Amazon che è interessata a entrare in questo mondo ieri c'era la notizia di Instagram che entra nel mondo del commercio elettronico quando si muovono loro qualche cosa davvero potrebbe cambiare non è detto che cambi necessariamente nel bene per quello che riguarda gli operatori ma un cambiamento certamente potrebbe arrivare chiudiamo proprio riflettendo su questo il prezzo sicuramente è sempre stato importante ma diventerà sicuramente ancora più importante anche con l'avvento e nel momento in cui si svilupperà ancora più di quanto è sviluppata adesso la ricerca vocale con la ricerca vocale diceva bene Simone Porto prima nell'altro panel il prezzo sarà poi quello che davvero vince perché io mi farò restituire uno due prezzi poi basta e a quel punto farò la mia scelta e se lì c'è questa confusione sarà davvero un dramma io vi ringrazio vi lascio andare a far pranzo se dovete ancora farlo noi andiamo a farlo e grazie dell'attenzione grazie mille grazie